Drummers, allora qualche giorno fa ho postato un mio nuovo articolo sul blog ufficiale intitolato i 10 batteristi made in Italy da non perdere molti di voi mi avete commentato scrivendomi batteristi che voi preferite alcuni di voi hanno apprezzato l'articolo e altri hanno polemizzato sul fatto che giustamente non si può fare una classifica del batterista più bravo perché non esiste il batterista più bravo e avete ragione ragazzi, io stesso ve l'ho commentato nelle risposte la mia era semplicemente una lista dei batteristi made in Italy, quindi italiani, che io preferisco personalmente cosa discutibile perché naturalmente è il mio punto di vista soggettivo è un po' come se uno di voi mi facesse la domanda è più bravo John Bonham o Terry Bozio? e io rispondo John Bonham, ma questo non vuol dire che Terry Bozio fa schifo sono tutti e due batteristi fantastici e ognuno di loro si distingue per qualcosa ogni batterista è quindi unico in qualcosa, ok? quindi ragazzi andatevi ad ascoltare la mia lista ciao